Nella serata si chiuderà anche la mostra dell'artista clusonese Luana Raya. Ci troviamo qui al ristorante Il Salotto dell'hotel Spa Castello a Louvre che sabato sera ospiterà un evento importante per Carnevale. Un ballo in maschera sia durante la cena che durante il dopo cena. Vediamo di che cosa si tratta. Sì, sabato sera nell'occasione del Carnevale 2011 ospiteremo una serata Ballo al Castello dove durante la cena i nostri ospiti potranno assistere a uno spettacolo eseguito dalla scuola di danza Circulo Bergamasco dove figuranti balleranno con costumi originali dell'Ottocento, waltzer, intratterranno il pubblico e a continuazione dalle ore 22 la struttura sarà aperta a tutti proprio per continuare i festeggiamenti del Carnevale. Sabato sera si chiuderà anche la mostra che dal 24 settembre è stata proprio qui all'hotel Castello di Luana Raya. Com'è andata? È andata molto bene, c'è stata tanta partecipazione, tanta attenzione e non solo comunque dall'Italia ma a quanto pare ha suscitato la curiosità anche dell'estero. Devo comunque ringraziare la struttura per avermi dato questa importante possibilità perché finora avevo sempre esposto solo comunque all'estero o comunque molto distante da dove abito e per la prima volta diciamo che le persone che conoscevo anche solo perché accompagnavo comunque mio figlio a scuola adesso mi conoscono sotto un'altra veste che è quella la vera, la mia dimensione, la mia passione primaria. La mia arte diciamo che nello specifico ha riscontrato tanti successi sull'incisione, sull'acqua forte, che è una tecnica un po' particolare. Torniamo a parlare dei 105.